Ultimissimi giorni di lavoro a Marche Nord per il dottor Umberto Gnudi, ex primario del pronto soccorso di Pesaro e medico in prima linea nei giorni più intensi della lotta al Covid-19. Già dallo scorso febbraio Gnudi ha smesso di essere il direttore del reparto emergenza. Al suo posto è stato nominato Giancarlo Titolo, già primario del pronto soccorso fanese. Ma l'ultima novità è che Gnudi da aprile lascerà anche l'azienda ospedaliera Marche Nord. Palesi le frizioni cominciate dicembre dall'outing del medico contro la condotta dei Novax che fece il Giro d'Italia. Un episodio al quale seguì una clamorosa conferenza stampa nel giorno della vigilia di Natale con gran parte dei primari di Marche Nord a schierarsi con l'azienda e a prendere le distanze da Gnudi e dal suo etichettare il pronto soccorso con dinamiche da terzo mondo. Ma se Gnudi se ne va significa che qualcosa nel nostro ospedale non funziona. Con queste parole oggi il sindaco di Pesaro Matteo Ricci ha stigmatizzato la vicenda attraverso i suoi canali social. Ricci ha voluto pubblicamente ringraziare la squadra di Gnudi per l'impegno di due anni nella lotta al Covid-19 e ora lancia pure l'idea di proporre al Consiglio Comunale una benemerenza della città per quanto fatto dal medico. Non solo, Ricci punta a mettere in calendario un Consiglio Comunale monotematico sulla sanità perché le cose, scrive, non vanno come vorremmo. Riceviamo periodicamente la mentele da dentro e fuori l'ospedale, oltre ad un evidente aumento della mobilità passiva. Tradotto per Ricci, messo un punto con la vicenda nuovo ospedale a Muraglia, serve ora un piano di rilancio dell'azienda ospedaliera. Azienda che perde pezzi perché al pronto soccorso nelle ultime settimane si è passati da 22 medici a 17. Una carenza di personale che anche i sindacati continuano a sottolineare a gran voce.